buonasera a tutti allora due più uno e vediamo un po nostro avversario 2328 e noi 2184 zoomiamo il nostro bel faccione e di sei anche se l'avversario ha un rating di tutto rispetto noi giochiamo un doppio fianchetto qui sviluppiamo i pezzi diciamo che la nostra pazzia l'abbiamo fatta nel giocare un impianto minore credo che tra l'altro fosse anche una scelta di spaschi contro petrogian in un match dei lontani anni 60 colleghiamo le torri torre 8 l'idea di torre 8 è di preparare in qualche modo di 5 e sostenere i 5 molto a lungo termine ai raggi x la donna avversaria ancora non è il momento buono tappiamo il centro questa casa è molto buona per il nero e adesso qui si vede come la torre 8 sia ben piazzata qui cerchiamo subito di allentare la pressione sulla la donna difende l'altiere e l'altiere controlla la casa 8 si è cambiato un po di materiale 1 e 35 e va bene così cavallo qui è molto buono si attaccava di 3 e io direi quasi quasi ma come prendiamo qui di alfiere o di pedone di pedone allora in una posizione così chiusa sinceramente il cavallo è un ottimo pezzo c'è anche da dire che la coppia degli alfieri nel caso in cui sulla colonna f si aprisse il gioco da lì si potrebbero entrare attaccare di 3 con l'altiere campo chiaro si sogna e alfiere di 8 l'idea è quella in qualche modo di liberare l'alfiere b 7 il problema è che l'unica casa buona e c 8 che controllata dall'alfiere in h3 quindi bisogna preparare h3 e h3 ma avete capito scusate mi sono stanco allora cambiamo e adesso qui interessante no ah perché adesso giustamente non essendoci più l'alfiere di 8 in ogni caso ecco questo è il momento buono è il momento buono è il momento buono e qui mi aspetto l'abbandono fantastico fantastico non ci speravo sinceramente cari cari followers e appassionati del nobil gioco allora questa partita ha visto in apertura il doppio fianchetto da parte del nero posizione molto equilibrata e solida il nero si è sviluppato cercando di evitare la formazione di debolezze nel proprio schieramento ha cambiato i pezzi pesanti le due torri sulla colonna a e poi in qualche modo ha cercato di tenere il finale finale che ha portato in qualche modo ad una posizione in cui il bianco non si è accorto del guadagno di tempo con alfiere c8 che libera l'azione della donna in c7 contro la donna bianca in a7 e quindi game over 0 a 1 spero che la partita vi sia piaciuta se sì ricordate di mettere un like iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto ricordatevi che adesso c'è anche il canale tik tok ci saranno sviluppi e alla prossima statemi bene